Ciao ragazzi, io di me lo vedo in questo nuovo video Scusate se sto in questo stato perché a causa del coronavirus nessuno può uscire Hashtag io rimango a casa E oggi vi farò scoprire cosa mi hanno portato Ecco, vi ho il video Questo qui è un libro carino a Nicolana Poi li hanno montato questo I fratelli di Sonino Poi li hanno rato questo La Montadori Uno squishy In casa Naturalmente E poi lo sapete che mi è arrivato E il pantalibro di lui e il suo figlio Che lo adoro Mi ha malicato stretto stretto Lo ho stretto stretto Tra le mie mani E io li adoro E un giorno spero di incontrarli Stavo vedendo già da nostri video E vi adoro, vi adoro, vi adoro E ciao Ciao ragazzi E una cosa, l'ultima cosa Se ancora non siete iscritti al mio canale Iscrivetevi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi